distretto del commercio dopo il passaggio in consiglio comunali pagani aspetta ore buone notizie dalla regione campagna l'amministrazione comunale del sindaco lello deprisco da mesi e al lavoro per il rilancio commerciale del centro storico e non solo l'attivazione dello strumento sarà la garanzia di un progetto a lungo termine per i privati in una città dove la categoria cerca sempre più protagonismo e soluzioni per il futuro davanti a crisi economiche di ogni tipo l'assessore delegato al commercio pietro sessa reputa fondamentale l'approvazione del prossimo distretto del commercio che permetterà lo sblocco di nuovi fondi di natura regionale e nazionale oltre che di tante altre possibilità è stata approvata questa delibera che va verso il riconoscimento del distretto del commercio questo rispetto alla regione noi abbiamo fatto un bel lavoro abbiamo visto i punti di forza e diciamo i punti di debolezza del nostro territorio abbiamo valutato abbiamo fatto una bella relazione abbiamo individuato come pagani tutto il territorio riguarda ricata nel distretto del commercio e una volta riconosciuto poi spetterà la regione spetterà a noi partecipare ai bandi per diciamo avere i fondi necessari per rilanciare il commercio sul nostro territorio il distretto riguarda tutto il territorio di pagani e abbiamo analizzato anche le variabili che sono molteplici dal parte del momento della crisi diciamo energetica del covid e di tante altre evoluzioni che ha riguardato il commercio come anche il commercio online hanno portato a una crisi io non penso solo paganese ma internazionale del commercio quindi in questa fase di transizione spero che si possa recuperare anzi io credo di sì perché i paganesi sono i commercianti migliori che abbia conosciuto e spero che i commercianti migliori ritornino nella loro terra pagani per rilanciare il nostro territorio